Il mio primo orto. Ciao, partiamo dalla nursery. L'uva. Giuro che non so quali piante io stia filmando perché non vedo assolutamente niente. Comadori con consociazione di basilico, cipolla, aglio, insalatina, fiori. Mi divertirò a fare la salsa. Questi sono tutti i ravanelli che percorrono fino alla fine. I ravanelli se li mangia solo la signora Castelli, che né io né mio padre ce li mangiamo. Dai, qualcosa è già pronto in poche settimane. Cosa sono? 15 giorni. Pomodori. In 15 giorni mangerà ravanelli. Con le varie consociazioni di rucola, fiori, perché nel scorso taggete qua ce n'è proprio di tutto. Io sto aspettando i pomodori, quindi è l'unica verdura che sto aspettando. Queste sono tutte le piantine di pomodoro. Insalata cresciuta naturalmente, i vari cavoli, cipolla, sempre per l'effetto delle consociazioni. Abbiamo i fagiolini nani, abbiamo, aspetta che mi deve venire in mente, sedano. Di qua abbiamo fatto la consociazione di pomodoro con i tavoli e le taccole. Quella lì è il... E questa qua è il ribes, la pianta di ribes. Ma c'è su i cosi di ribes? Sì, qualcosa su, adesso vediamo. Qualcosa su, l'altro ne ha di più. Poi va bene, abbiamo messo giù tutti i fiori sulla rete, sempre per chiamare le api. Questo che cazzo è? Porro. Porro che sta facendo il suo... Il porro che avevamo in casa, che abbiamo mangiato, tagliato, messo nell'acqua, fatto radici. Ah. Anche questo è sedano tagliato, che ha fatto le radici, le abbiamo messe giù. Questi sono sempre pomodori con tutto attorno ai fiori. Mi immagino che questo a un certo punto dovevamo coglierlo, no? No, no, lascialo che mi fai i fiori. Eh. Il porro. Poi va bene qua ancora con associazioni varie, sempre con i pomodori, perché la cosa che mi interessa è chiaramente... Sono i pomodori? Sono i pomodori. Certo, non sono l'unica cosa che ho chiesto. Pomodori, linguri e baby. Io vi sono comprata. Piazza di taccole con fiori, anche qua, tutto spiano. Anche qua, va bene, abbiamo... Ho cipolla, aglio, zucchine. Anche le zucchine ho richiesto. Basilico. Che bello che è il sedano. Le mie piante di zucchine. Qua abbiamo seminato tutto carote. Zucchine. Che già stanno dando i loro primi bei frutti. Intanto io assaggio i ravanelli. Ok. Dall'altra parte abbiamo messo le fragole, tutti i frutti di bosco. A livello delle fragole che si possono cogliere. Sì, sì. Buone i ravanelli. Ti piace? A me non dicono niente i ravanelli. Anche qua poi abbiamo giù i pepe. No, no, non è da tirare su, scusa. Sì, sì. Con le more c'è da raddrizzare. C'è tutto da raddrizzare. Adesso mi ha portato il filo e mi andrò a raddrizzare. Poi dimmi se va bene perché col filo lì un euro e 75 costa. Vedi che sono tutti in fiore? Beh, speriamo. Ok.